Ci siamo. Non c'è margine d'errore. Eris, Corvo, Kajaton, mettetevi in posizione e piazzate gli amplificatori. Guardiana, dritta nel mezzo. Fai un po' di confusione e attira su di te le forze di Kalos. Amplificatori pronti. A rapporto. Il mio amplificatore è pronto e sono in posizione nella Sala del Trono. Quel codardo di mio padre non si vede. Lo sentite anche voi? Che cosa, Kajaton? Kajaton! Le sue comunicazioni vengono bloccate. Guardiana, vai alla Sala del Trono e scopri che succede. Amplificatore sistemato. Mi dirigo... Corvo! Corvo! A rapporto! Eris, riesci a raggiungerlo? Mi sto già muovendo. Guardiana, non distrarti. Trova Kalos e... Gli altri non sono con te. Allora faremo da sole. Padre! Riesci a vedermi? Manifestati! Ti vedo, figlio mia. Vedo i tuoi fallimenti. I tuoi dubbi. Le tue paure. Avresti potuto essere al mio fianco. E lì invece hai scelto questo. E lì invece hai scelto questo. Vero non ti dispiace, ma non ha resistito a fare l'eroe per un'ultima volta. Al mio piano sei al sicuro. Guardiana! Questo farà male. Molto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. 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 No.